Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo il Lazio dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto, territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. Il pecorino romano è un pecorino apprezzato fin dai tempi dei romani nella regione dell'agroromano come testimoniato da Plinio il Vecchio, Varrone e Ippocrate che ne descrissero le tecniche di caseificazione. Viene prodotto nel Lazio, nelle province di Roma, Rieti, Viterbo e Latina ma anche in Toscana nella provincia di Grosseto e in Sardegna nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari dove alcuni imprenditori romani e napoletani introdussero le tecniche di lavorazione nel 1900. Le forme di pecorino romano vengono sottoposte a marchiatura con un'apposita matrice che imprime la denominazione d'origine del formaggio e il logo costituito dalla testa stilizzata di una pecora. In seguito vengono avviate alla salagione che si compie ancora oggi secondo una complessa tecnica artigianale. Tale fase dura almeno 70 giorni in locali umidi a una temperatura di 12 gradi centigradi e viene completata in locali meno umidi a temperatura di 10 gradi centigradi. Ultimata la maturazione le forme vengono sottoposte a selezione. Raggiunti i cinque mesi il pecorino romano può essere destinato al consumo come formaggio da tavola mentre dopo otto mesi può essere commercializzato come formaggio da grattugia. Il pecorino romano come ho detto si produce nell'agro romano che è una vasta area rurale in parte pianeggiante e in parte collinare che si estende attorno alla città di Roma. Politicamente e storicamente ha rappresentato l'area di influenza del governo municipale di Roma. Il termine fu ripristinato da Flavio Biondo nel 1400 e in età umanistica veniva utilizzato per indicare l'area della campagna romana nel distretto municipale di Roma. L'agro romano viene spesso confuso con la campagna romana la quale in realtà designa il territorio collinare e a tratti pianeggiante interamente compreso sul lato sinistro del bacino del Tevere fino ai monti prenestini, ai colli albani, al fiume Astura nei comuni di Nettuno e Latina e al Martirreno. Dopo il fiume Astura la campagna romana lascia il posto all'agro pontino. La Roma di Romolo e dei suoi immediati successori aveva un territorio molto ristretto anche rispetto ad altre città latine vicine come preneste e questo territorio era delimitato dai termini, ossia cippi piantati nel terreno a delimitazione dell'area di influenza di una città o di un privato cittadino. La leggenda vuole che proprio per una questione di confini, quindi di superamento dei termini, Tullo Stilio dichiarasse guerra ad Alba Longa distruggendo la gloriosa città latina ed incamerando nei territori nel 635 a.C. Con la proclamazione della Repubblica nel 510 a.C. tutto il territorio occupato dai romani nell'Azium Vetus venne proclamato ager publicus, dunque l'equivalente degli attuali terreni demaniali gestiti dallo Stato e concedibili ai privati. Le autorità municipali romane all'epoca erano i consoli stessi. Ottaviano Augusto costituì la carica del Prefectus Urbis ed altre cariche che divisero l'amministrazione della città di Roma da quella dell'impero romano. Perciò si pose anche il problema di delimitare il territorio del municipium di Roma. Oltre alla reggio prima Lazium et Campania, amministrata da un governatore apposito, i confini dell'autorità municipale di Roma vennero fissati ad centesimum lapidem, ovvero al centesimo miglio di ciascuna via consolare convergente su Roma. Perciò, per legge, le autorità municipali romane controllavano la quasi totalità del Lazio, anche nella ripartizione territoriale confermata dalla nuova suddivisione delle province fatta da Diocleziano. Dopo la caduta dell'impero i prefetti Urbis continuarono ad essere eletti finché non vennero totalmente esautorati della loro potestà di fronte all'avanzare del potere del Papa, che divenne quindi il vero rappresentante del municipio di Roma. L'agrolomano, inteso come zona politicamente soggetta al municipio di Roma, continuò ad estendersi teoricamente ad centesimum lapidem, ma in pratica molte zone di confine erano finite in mano ai Longobardi e altre furono amministrate da enti religiosi, se non dallo stesso Papa che iniziò a gestire il territorio. Le tenute rimasero pressa poco le stesse, fino alla metà del 1900. Il primo catasto, quello alessandrino del 1660, enumera infatti 380 tenute, mentre la topografia geometrica dell'agroromano del 1692 ne riporta addirittura 411. Come conseguenza della creazione del catasto gregoriano del 1835, l'agroromano si estendeva intorno a Roma per 47 chilometri come massima estensione, per 8 chilometri per quanto riguarda la minima. Nel 1810 la consulta straordinaria, nel periodo in cui Roma era parte del primo impero francese di Napoleone, confermando l'appartenenza dell'agro al territorio comunale, ricomprese in questo i comuni e i villaggi di Cerveteri, Ceri, Palo Laziale, Fiumicino, Pratica, Ardea, Isola Farnese e La Storta. Il motu proprio di Papa Pio VII del 6 luglio 1817 estese i confini del municipio di Roma, assegnandole i territori meno popolati verso l'interno, oggi Roma Est, oltre alle zone che formano gli attuali comuni di Fiumicino, Pomezia, Ardea ed Aprilia, come parte dell'agroromano, fino ad allora completamente abbandonati, poiché quasi interamente paludosi. Il comune di Roma poté quindi avere i confini ben delimitati, all'interno dei quali il senatore di Roma aveva il compito di amministrare che risultarono molto più ampi di quelli che sin dall'alto medioevo definivano la città di Roma e non rimassero più nebulosi fino ad oggi. Nel nuovo catastro riformato di Roma del 1870, aggiornato anche per definire le pretese territoriali dei comuni limitrofi, come quello di Civitavecchia, di Formello o di Albano Laziale, l'agro contava 357 tenute agricole. Nel 1939, a seguito della bonifica dell'agropontino, venne fondato il comune di Pomezia, in esso incluso anche l'attuale comune di Ardea, mentre nel 1992 venne costituito quello di Fiumicino.